Buongiorno a tutti, sono Pier Alberto Gobbo di X-Pharm Technologies. Oggi siamo felici di lanciare la partnership strategica con Argo Tractors, con la missione comune di sopportare gli agricoltori nel processo di efficienza e di sostenibilità nell'ambito dell'agricoltura che sta subendo tantissimi cambiamenti guidati dall'innovazione tecnologica che vedono la connessione di trattori macormiche e l'integrazione nelle filiere agroalimentari per i fini di tracciabilità e sostenibilità. L'agricoltore oggi ha bisogno di strumenti semplici, intuitivi e smart per essere più efficiente, per poter gestire le proprie coltivazioni in maniera che possa essere profittevole ma al contempo sostenibile e quindi di permettere di continuare a svolgere un ruolo importante nell'ecosistema agricolo. Siamo convinti che questo progetto tra Argo Tractors e X-Pharm Technologies sia l'inizio di un percorso che porterà l'agricoltura a un'innovazione continuativa.